Salve, ciao, chiedo scusa, posso parlare con qualcuno responsabile qui al conservatorio? Grazie, ciao. Salve, buongiorno. Un incontro orchestrale, dove ci sono varie sezioni, magari si suonano un po' di strumenti in generale, tromba, pianoforte, vabbè, ciao. Senti, scusa, dov'è quello con la videocamera? Senti, scusa, un film, casomai tu saresti in grado di farlo, di girare con delle persone, magari degli attori, professionisti, potreste, riuscireste a girare un film? Sì, un attimo, aspetta, faccio un attimo.